... Anche in Molise Bersani stravince il segretario del Partito Democratico scelto come candidato alla presidenza del Consiglio votato dal 63% degli elettori quasi dal 70% in provincia di Sernia Prefettura e Questura a fine della corsa a Sernia sempre più vicino l'accorpamento in quello che è stato definito il presidio territoriale mercoledì si decide il Consiglio dei Ministri dall'ex hotel in fiamme spuntano le ballerine a fuoco a Termoli l'ex Rosa dei Venti l'incendio ha semidistrutto un paio di camere dove alcune ragazze erano in affitto sull'episodio indaga la polizia San Giuliano di Puglia ricorda Umberto Visconti il bambino fu la 27esima vittima del crollo della Jovine uno spettacolo in suo onore portato in scena dagli studenti del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano Pari del campo basso in trasferta a Teramo un punto che fa morale sul campo degli abruzzesi in serie D il Termoli passa a Recanati Capitombolo interno dell'Isernia e l'Agnone ne prende 5 dall'Astrea Un saluto a tutti voi buon pomeriggio edizione delle 14 del nostro telegiornale dunque il giorno dopo il ballottaggio anche in Molise il segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha staccato di gran lunga il suo sfidante Matteo Renzi nella corsa alla candidatura alla presidenza del Consiglio dei Ministri primarie dunque in archivio il giorno dopo è lo spazio dei commenti 63% il tetto toccato da Bersani in Molise qualcosa in più rispetto alla media nazionale addirittura del 70% in provincia di Isernia ma settiamo i particolari nel servizio di Giuseppe Lanese La netta vittoria di Bersani anche in Molise scioglie le polemiche piovute sui vertici regionali del PD dopo il risultato ottenuto al primo turno anzi proprio il Partito Democratico si prende una bella rivincita presentando il conto finale con Pierluigi Bersani che in Molise fa meglio della media nazionale 63,30% rispetto al 60,8% in Molise hanno votato quasi in 10.000 6.199 le preferenze per Bersani e 3.562 quelle per Renzi il rottamatore vince in provincia di Campobasso solo in 9 sezioni su 42 e in una sola su 24 in provincia di Isernia quella di Filignano scontato il risultato di Riccia dove grazie al sostegno di Micaela Fanelli il sindaco di Firenze ottiene 362 voti rispetto ai 33 di Bersani a dare fiducia a Renzi anche ai comuni di Castropignano Cerce Maggiore, Ferrazzano, Monacilioni Pietracatella, Sant'Elia, Pianisi Tufara e Vinchiaturo tutto il resto è bottino di Pierluigi Bersani che a Campobasso ha quasi doppiato lo sfidante con 1.132 voti rispetto ai 627 di Renzi e a Isernia ha raggiunto le 561 preferenze rispetto alle 307 del sindaco di Firenze alla fine tutti contenti per la grande prova democratica come l'hanno ribattezzata dal comitato organizzatore delle primarie soddisfatto anche il segretario regionale del PD Danilo Leva che incassa nella sua provincia quasi un 70% di preferenze a favore di Pierluigi Bersani una vittoria che fa morale anche per le sfide elettorali interne restiamo sulla pagina nazionale per così dire anche se parliamo dell'accorpamento della questura alla prefettura e dunque ci occupiamo di un problema alle prese con il quale si trova la città di Isernia mercoledì se ne discuterà a Roma durante la riunione del consiglio dei ministri si parla del cosiddetto presidio territoriale sentiamo qual è il clima in città nel servizio di Enzo Di Gaetano arriverà mercoledì in consiglio dei ministri il regolamento che rivoluziona di fatto la presenza dello Stato in provincia di Isernia stando al piano elaborato dal Viminale spariranno questura e prefettura al loro posto ci sarà un presidio territoriale ma non sarà solo Isernia a subire i tagli della spending review del Ministero degli Interni infatti insieme alle strutture del capoluogo Pentro spariranno anche altre 68 tra prefetture e questure diffuse in tutta Italia una vera e propria destrutturazione dello Stato con pesanti rigadute in termini di sicurezza pubblica e l'allarme dei sindacati della Polizia è già partito come si possono tagliare prefetture e questure quando la legge che accorpa le province è ancora ferma in commissione al Senato si tratta di un pericoloso salto nel buio il programma barato dalla Cancellieri prevede che per sostituire gli uffici chiusi si istituiranno i presidi territoriali maggiori poteri invece saranno assegnati ai prefetti superstiti che diventeranno rappresentanti dello Stato sul territorio spariranno 35 prefetture e 35 questure 5,7 milioni di euro saranno risparmiati per i costi del personale e 35 milioni tagliati come affitti attualmente pagati per gli immobili di questure e prefetture il regolamento che sarà esaminato mercoledì dal Consiglio dei Ministri riorganizza gli uffici seguendo lo schema già previsto per la riduzione delle province e delle regioni a statuto ordinario passate da 86 a 51 al loro posto è stata prevista l'istituzione dei presidi territoriali che dovranno mantenere invariati i servizi ai cittadini con particolare riguardo alla sicurezza pubblica al soccorso e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per Isernia e per l'Alto Molise si tratta di un vero e proprio terremoto istituzionale dopo Italia la sanità arrivano anche Italia le strutture dello Stato si va verso il progressivo ritiro della presenza dei servizi pubblici che potevano servire da ammortizzatore in un periodo di così forte crisi economica davvero il futuro di Isernia si preannuncia tragico e bisogna chiedersi ora cosa resterà della provincia Pentra nel giro di pochi anni nessuna possibilità di sbocchi occupazionali e i giovani continueranno ad andare via resteranno solo gli anziani bisogna reagire anche il presidente Iorio ha bocciato il piano sanitario predisposto dal commissario Filippo Basso un progetto sbagliato lo ha giudicato il governatore perché tra l'altro non consente ha detto di assicurare al territorio la rete dell'emergenza Iorio ha inviato le sue osservazioni al ministro della salute sull'operato del commissario Basso e sulla sua proposta di piano sanitario per il Molise Basso ha aggiunto Iorio e è andato oltre il suo mandato non essendo di sua competenza né il riordino della rete ospedaliera né il rapporto tra le strutture pubbliche e quelle private e a proposito di sanità su iniziativa del comitato articolo 32 ad Agnone si è tornato a discutere di come salvare dai tagli il caracciolo si torna anche a pensare l'ipotesi di un nuovo ricorso al TAR Sergio Di Vincenzo Prima di prendere decisioni i promotori del comitato articolo 32 vogliono vederlo con i loro occhi il nuovo piano sanitario ma le voci che circolano non sono rassicuranti la possibile chiusura del reparto di anestesia e quindi di chirurgia di fatto ridimensiona notevolmente il caracciolo delle ultime notizie sul futuro dell'ospedale di Agnone se ne è parlato durante un'assemblea pubblica il clima in città è di forte preoccupazione i servizi sanitari saranno ridotti non all'osso ma molto di meno di quello che si può immaginare ovviamente siamo preoccupatissimi perché un territorio di questo genere che ha una sua conformazione particolare non può correre il pericolo di trovarsi come devo dire assolutamente dissanguato della sua efficienza sanitaria e completamente esautorata questa sanità locale della sua capacità di intervento soprattutto nell'emergenza urgenza il comitato agnonese non esclude di ricorrere nuovamente al TAR del resto la battaglia legale ha già dato ottimi risultati in passato intanto al commissario Basso viene rivolto questo invito già che dalla mappa degli ospedali non abbiano cancellato quello di Agnone considerandolo come ospedale di montagna già può essere un punto di partenza importante lo inviteremo a venire ad Agnone a rendersi conto come aveva fatto il suo predecessore il dottor Morlacco e gli chiederemo effettivamente di valutare con attenzione la situazione orografica di Agnone perché Agnone è il territorio dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese non può essere amministrato con la logica dei numeri perché lì saremo assolutamente perdenti c'è una popolazione, una popolazione spesso anziana in difficoltà e a questa vanno assicurati i servizi e questo deve essere l'impegno che noi vorremmo mettere nel futuro di questa lotta all'incontro ha partecipato anche l'assessore regionale Filoteo Di Sandro solo 10 posti letto per acuti nel reparto di medicina insomma mi sembra un po' poco per guardare al futuro per la sopravvivenza di questo ospedale la regione assicura battaglia senza escludere futuri accordi con l'Abruzzo mentre c'è scetticismo sull'ipotesi di aprire le porte dell'ospedale ai privati in un momento di grande difficoltà per la sanità nazionale e anche regionale non credo ci siano dei privati disposti a cacciare risorse importanti per far sopravvivere un ospedale pubblico anche il trasporto pubblico alle prese con problemi sia per quanto riguarda quello su gomma che quello su rotaia se ne è discusso in un forum a Campobasso durante il quale è stato chiesto che i viaggiatori vengano tutelati di più sentiamo Marcella Tamburello Tutelare i viaggiatori molisani attraverso la ristrutturazione del trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma è la richiesta del forum regionale dei trasporti pubblici che insieme alle associazioni molisane che lavorano per la difesa dei consumatori ha tenuto una conferenza stampa al comune di Campobasso Noi innanzitutto offriamo la possibilità di collegarsi anche alle istituzioni a un forte movimento nazionale perché il nostro forum partecipa al forum nazionale del trasporto pubblico che ha visto a Roma la partecipazione di tutte le associazioni dei consumatori associazioni ambientaliste e circa 150 comitati dipendolari che sono in trattativa con il governo centrale e quindi la possibilità di rafforzare l'azione delle nostre istituzioni non per semplice rivendicazione ma per collegandosi a obiettivi che sono di interesse anche del Molise Come primo punto, sottolineano dal forum ci dovrebbe essere uno stanziamento simile dei fondi tra alta velocità ed il piccolo trasporto locale sempre più penalizzato Bisognerebbe poi varare un piano regionale per il trasporto urbano rilanciando a Campobasso la metropolitana leggera che non avrebbe costi molto elevati come hanno rimarcato i responsabili del forum Obiettivo necessario per il futuro di questo settore la creazione di un'autorità nazionale dei trasporti Il forum, insieme alle associazioni dei consumatori intende ora portare tutte le richieste ad un tavolo tecnico istituzionale Non si tratta di trattare ma si tratta di rinvestire queste percorrenze e questi disponibili finanziamenti che abbiamo a disposizione aumentando, conservando il servizio non colpendo né i trasportatori né i viaggiatori e aumentando sostanzialmente le possibilità di collegamento per i nostri piccoli paesi Torniamo ora alla pagina politica ci occupiamo del comune di Isernia alle prese con le questioni del bilancio i primi argomenti diciamo così che presentano qualche ostacolo qualche intoppo della neoamministrazione De Vivo lo stesso sindaco è tornato a chiedere collaborazione sentiamo la redazione di Isernia Prima riunione della giunta comunale di Isernia l'esecutivo De Vivo ha cominciato con l'esame del riequilibrio di bilancio e con la situazione del personale comprese indemnità straordinarie a retrati intanto Maria Teresa D'Achille chiede uno sforzo straordinario della giunta sulle emergenze e sui problemi risolti a partire dall'impegno di spesa per i progetti PISU di cui Isernia è capofila c'è tanto da fare e bisogna accelerare i tempi Molte delle questioni amministrative degli interventi che riguardano i servizi della città dal centro storico, l'università, l'auditorium i parcheggi, i rifiuti e tutto il resto sono questioni che sono state già affrontate dall'altra amministrazione Oggi noi abbiamo bisogno di migliorare questi servizi e di fare in modo pure che nonostante le riduzioni che vengono dalla Regione e dallo Stato noi riusciamo anche a intervenire per completare delle opere che sono importanti E dal centrodestra arriva la disponibilità a sotterrare l'ascia di guerra e a guardare avanti per un programma condiviso C'è stato un periodo comunque particolare ci siamo dimessi semplicemente perché potessero essere nuovamente cittadini a fare chiarezza e ad eleggere un'amministrazione forte dei propri numeri per proseguire in maniera spedita Ci attendevamo comunque da parte del Sindaco un incontro distensivo per discutere effettivamente di quelli che sono i problemi della città e su come affrontarli, quindi in maniera anche dettagliata che purtroppo non abbiamo più tempo per non affrontare determinate questioni Questo non c'è stato Il Sindaco comunque ha recepito a mio avviso le mie indicazioni le mie richieste che sono pervenute da un po' da tutto il Consiglio e quindi immagino e spero che queste linee programmatiche possano essere nel concreto condivise nell'interesse per il bene della città Primi fiocchi di neve a Campobasso dove questa mattina le temperature sono scese anche sotto lo zero, qualche disagio sulle strade con il traffico in centro rallentamenti e code nella zona del capoluogo si sono verificati anche alcuni incidenti senza gravi conseguenze le immagini si riferiscono proprio alla nevicata di stamattina intanto il resto del Molise resta stretto nella morsa del gelo oggi la neve è caduta anche a bassa quota e a ridosso della costa mentre abbondanti nevicate hanno interessato le località al di sopra dei mille metri Pioggia abbattente, temperature rigide e vento forte sul litorale la Capitaneria di Termoli ha emesso un avviso di burrasca e ha annunciato possibili disagi e ritardi nei collegamenti con le isole Tremiti la cronaca ci porta proprio a Termoli dove c'è un vero e proprio giallo dopo le fiamme che sono divampate all'interno dell'ex hotel La Rosa dei Venti sono andate semidistrutte un paio di camere ma quello che ha sorpreso è che all'interno c'erano alcune ballerine day night della zona allora sull'episodio indaga la polizia Manuela Iori Un incendio è scoppiato a Termoli in una delle camere dell'hotel Rosa dei Venti in via dei Lecci chiuso dal 2005 dopo il fallimento della società proprietaria dell'immobile la struttura è infatti da tempo un alloggio di fortuna per molti stranieri soprattutto donne al momento dell'incendio c'erano 12 persone una coppia marito e moglie e 10 ragazze dell'est tutte rumene, giovanissime il fumo le ha sorprese nel sonno domenica pomeriggio dopo la notte trascorsa al lavoro come ballerine nei net della città si sono riversate in strada di corsa portandosi dietro gli effetti personali alcuni borsoni i vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore a spegnere l'incendio scoppiato da un fornelletto elettrico andato in cortocircuito i mobili di legno accatastati e il controsoffitto in polistirola hanno fatto il resto alimentando le fiamme e il fumo denso sul posto la polizia che ora indaga sul caso perché l'incendio ha svelato una situazione di degrado oltre che un giro di affari al momento ancora poco chiaro intorno all'albergo abbandonato le ragazze per stare lì sborsavano dai 150 ai 250 euro mensili per un posto letto e un angolo uso cucina così hanno riferito ai poliziotti spiegando di pagare l'affitto a un certo Giuseppe gli agenti stanno cercando di risalire alla sua identità anche perché al momento non si è ancora capito chi sia il proprietario dell'ex albergo né se la struttura fosse abitabile con gli impianti a norma se avesse un'autorizzazione a stare aperta con funzione di ostello le ragazze hanno raccontato di vivere in condizioni precarie senza il riscaldamento e a volte anche senza acqua calda una situazione di degrado su cui ora il commissariato di Termoli dovrà far luce Torniamo a San Giuliano di Puglia per parlare del ricordo che tutta la comunità ha tributato a Umberto Visconti il bambino deceduto in seguito al crollo della Jovine per ultimo fu infatti lui la 27esima vittima hanno portato in scena uno spettacolo anche di studenti del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano il servizio è di Fabrizio Occhionero Si sono esibiti nella sala della scuola di San Giuliano di Puglia che la protezione civile nazionale considera come la più sicura d'Italia per loro la consapevolezza di testimoniare attraverso il talento il senso di vicinanza e unità in un territorio dove studiano, si formano e soprattutto vivono la voce dell'anima a distanza di 10 anni che scuote ancora le coscienze di ognuno invita a operare per la sicurezza e la dignità della persona umana si intitola Incanto, lo spettacolo che domenica sera gli studenti del liceo scientifico di Santa Croce hanno presentato con grande impegno dedicandolo ai bambini di San Giuliano e alla maestra Carmela l'iniziativa si è svolta in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Umberto Visconti morto dopo un mese dal crollo della Jovine all'ospedale Bambin Gesù di Roma in sala i genitori Massimo e Celestina, il fratello Guido e la sorellina Ginevra che insieme a tanti altri hanno seguito con il cuore tutti i momenti dello spettacolo l'evento è stato patrocinato dal comune di San Giuliano di Puglia e coordinato dalle docenti Rachele Porrazzo e Silvana Cappiello al termine il dirigente scolastico Giuseppe Colombo ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso l'iniziativa annunciando che l'auditorium del liceo di Santa Croce verrà presto intitolato ai 27 angeli e alla loro maestra una realtà scolastica peraltro sempre coinvolta e presente nelle giornate commemorative e nel concorso I colori della vita un cumulo di emozioni, un bombardamento di emozioni anzi con l'amore di questi ragazzi per quello che hanno fatto è una cosa straordinaria loro sono il nostro futuro la serata si è conclusa con Ciaomberto sulle note di Osarracino e adesso parliamo dell'albero che sta per arrivare in piazza San Pietro a Roma dal bosco degli abeti soprani di Pesco Pennataro è adagiato su un rimorchio e sarà appunto portato nella capitale il 14 dicembre l'abeto pesa 35 quintali e alto 25 metri sarà proprio Papa Benedetto XVI a illuminarlo il sindaco di Pesco Pennataro Pompilio Sciulli e il responsabile della protezione civile del Molise Giuseppe Giarrusso ci spiegano qualche dettaglio di questa operazione sentiamo è stata scelta una pianta bella sì ma una pianta a ridosso della strada in modo che non veniva come avete potuto vedere non veniva minimamente intaccato il bosco per lavori di preparazione e quant'altro anche perché in questo periodo i boschi sono bagnati quindi tutti i lavori sono stati fatti sulla strada asfaltata e la pianta stava proprio sulla diciamo sulla cunetta della stessa ovviamente il mio ringraziamento va alla regione Molise alla protezione civile e a tutti coloro che hanno collaborato ma in primis ai cittadini, ai miei cittadini di Pesco Pennataro i quali attivamente partecipano ogni giorno mettendosi a disposizione per tutto quello che occorre per la riuscita della manifestazione andiamo in pellegrinaggio a Roma 400 persone, tutti pescolani tutta gente di Pesco Pennataro e anche vecchietti di 93 anni verranno a salutare il Santo Padre e quindi io devo ringraziare tutto e tutti Donare un albero al Papa è una cosa che non succede tutti i giorni io credo che nella mia vita non lo vedrò più quindi il messaggio è prima di tutto un messaggio di pace perché l'albero rappresenta la pace e soprattutto un messaggio di forza forza dei molisani forza di questa gente che all'esterno purtroppo delle volte anche per altre questioni è vista male è dimostrata che questa gente non è un'agenda è un'agenda forte è un'agenda che si rimbocca le maniche e al bisogno sa fare il suo dovere lo sa fare al meglio e ora andiamo alla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso dove oggi hanno preso il via le giornate di chirurgia ginecologica interregionali sentiamo Giuseppe Lanese un corso con specialisti di livello internazionale nel campo della chirurgia oncologica tre giornate di alta formazione alla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso organizzate dall'associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani oggi il primo appuntamento con docenti, medici ed esperti che si sono confrontati sui temi della prevenzione e delle terapie innovative è un appuntamento importante perché vede coinvolti tanti specialisti ginecologi in particolare ma anche altri specialisti su un argomento importante che è quello della chirurgia e del ruolo che questa chirurgia ha nella ginecologia oncologica in particolare anche la chirurgia mini-invasiva ma a che punto siamo con la ricerca scientifica in questo settore? siamo abbastanza avanti oramai si possono affrontare molti dei tumori ginecologici con metodiche poco invasive ugualmente radicali ma più rispettose della qualità di vita delle pazienti e in particolare la laparoscopia in particolare la robotica in particolare nuove tecniche di laparoscopia con strumenti sottilissimi o addirittura tecniche che prevedono il solo accesso attraverso l'ombelico al centro delle giornate di studi anche l'importanza del lavoro interdisciplinare attraverso tutti gli aspetti legati alla cura della malattia dalla diagnostica alla terapia al supporto medico e psicologico verso le pazienti anche la modalità didattica è innovativa una sessione del corso infatti è stata dedicata alla chirurgia in diretta dalle sale operatorie della stessa fondazione Giovanni Paolo II centro di eccellenza in Italia la struttura è sicuramente un centro di eccellenza basti pensare al gemellaggio con l'Università Cattolica di Roma e quindi con il Policlinico Gemelli alla collaborazione che abbiamo anche tramite la mia venuta qui con l'Università Charité di Berlino e all'attenta evoluzione che questo centro sta avendo nelle tecniche chirurgiche più avanzate e soprattutto meno invasive Rimarrà aperta fino al 10 dicembre al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra di Enza Presutti vediamo Ricordare i colori della natura e della terra attraverso la pittura e la poesia è così che l'artista campobassana Enza Presutti ha voluto omaggiare il Molise una raccolta di poesie e una serie di quadri in mostra al Circolo Sannitico con uno scopo importante raccogliere fondi da devolvere in beneficenza I colori dell'anima il titolo della mostra che resterà aperta fino al 10 dicembre Lei è un'appassionata di pittura e di poesia come nascono queste passioni? Penso che nascano tutti e due da una sola fonte che è l'anima l'anima la pittura esalta è ubriaca di bellezze di sentimenti eccetera di sensibilità per cui non si può fare a meno di scostarsi poi da quello che è la poesia come la musica in fondo La Presutti ha ricevuto molti riconoscimenti dopo aver esposto le sue opere in giro per il mondo Parigi, Vienna, Oxford, Cambridge, Madrid e poi Trieste, Milano, Stresa, Omenia Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Pescara, Bari ma anche in Virginia con delle opere in ricordo dei lavoratori molisani morti nella tragedia di Monunga Nei quadri oltre all'omaggio fatto alla propria terra con scenari tratti dal Molise l'artista ha voluto lanciare un messaggio a tanti giovani per cercare di combattere fenomeni come il bullismo e la dipendenza da alcol e droga Ho preparato sulle tele ad olio dalle quali poi ho ricavato delle stampe a colori piccole come un formato di guaderno su droga, alcolismo e bullismo è un tema che io sto portando avanti già da due anni tramite convegni eccetera in modo che questo trisse rimanga tra i giovani innanzitutto nelle scuole medie nei licei che abbia il suo valore proprio nella gioventù perché questi nostri giovani vedo che c'è un grande degrado un po' dovunque Adesso andiamo a vedere le immagini del undicesimo compleanno del centro del Molise festeggiato con una maxi torta e con il vincitore della scorsa edizione del festival di Sanremo della sezione giovani Giuseppe Carriera A 14 anni era già una star del programma di Jerry Scotti Io Canto oggi che di anni ne ha solo 16 compiuti a giugno è capace di mettere in moto l'entusiasmo di migliaia di teenager forte del successo ottenuto finora Alessandro Casillo ha vinto la sezione giovani del festival di Sanremo 2012 ma è sempre sui palchi più importanti da MTV ai Wind Awards o in apertura dei concerti di Noemi un ospite d'eccezione quindi per la festa di compleanno del centro del Molise e non sono mancati i colpi di scena è stata un'accoglienza fantastica anche perché comunque devo dire la verità non mi aspettavo questa accoglienza così calorosa sono salito sul palco c'era una marea di gente che non finiva più quindi l'emozione ti sale e capita quel che capita io mi sono commosso ed è grazie a loro alla fine perché loro sono venuti per me io gli devo tutto sei bellissimo grazie Ale taglio della torta affidato al direttore del centro Maurizio Mangia la nostra priorità ha detto è metterci al servizio della città del territorio e della sua gente per rafforzare quotidianamente un legame nato 11 anni fa il centro del Molise è una struttura infatti che cerca di essere al completo servizio dell'utenza sia del bacino primario che del secondario noi ci sentiamo partner dei nostri visitatori dal prossimo weekend inizierà un ricco calendario di venti natalizi che abbraccerà il periodo del weekend della concezione fino alla Befana gli intrattenimenti di ogni genere insieme alle degustazioni renderanno sicuramente più piacevole la permanenza nella struttura ci saranno degustazioni anche all'esterno della struttura nei parcheggi saranno allestite postazioni di intrattenimento per bambini ma soprattutto divertimento per tutta l'età un appuntamento con la nostra programmazione prima di chiudere su Telemolise Vivi Rurale stasera lo spazio informativo dedicato al programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione la puntata è stata realizzata nel vivaio Feudozzo di San Pietro Avellana l'appuntamento è alle 22 abbiamo concluso la prima edizione del nostro telegiornale il meteo e lo sport noi ci vediamo tra un po' negli aggiornamenti delle 15 grazie e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti